Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano in cincia di sé sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero doloroso, si contempla l'orazione e l'agonia di Gesù nell'orto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mange di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come è il mio figlio di Dio sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre corpe, preservarci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, spesamente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la fragellazione di Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla detentazione, ma liberarci dal mare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come è il Signore di Dio, prega per noi peccatori, amè. Gesù mio, perdona le nostre corpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla l'incolonazione di spine di Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Nacce oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri crediti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci dalla tentazione, ma per la cina al male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e per sempre, nei secoli dei secoli, amè. Gesù mio, perdona le nostre corpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù Cristo al Monte Calvario. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come la città di sempre, nei secoli dei secoli, amè. Gesù mio, perdona le nostre corpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la morte di Gesù Cristo in croce. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche a noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma libertoci alla madre. Amore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetto fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come ero in principio, riserva, e prega per noi peccatori. Amen. Gesù mio, perdona le nostre corpe, preservaci sul fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso lungo, Avvocata nostra, rivolge a noi i tuoi sordi, i tuoi misericordiosi. E mostraci dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o glia, o dolcezza, e glia Maria. Signore e pietà, Cristo pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. O Dio, Padre Celeste, o Dio, Figlio Redentore del mondo, o Dio, Spirito Santo, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Grazia Divina, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Rastissima, prega per noi, Madre Sempre Vergine, prega per noi, Madre Senza Colpa, prega per noi, Madre Amabile, prega per noi, Madre Ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Vergine prudentissima. Vergine degna di onore. Vergine degna di ogni lode. Vergine potente. Vergine clemente. Vergine fedele. Modello di santità. Sede della sapienza. Causa della nostra gioia. Prego per noi. Tempio dello Spirito Santo. Prego per noi. Tempio di gloria. Prego per noi. Modello di vera pietà. Prego per noi. Rosa mistica. Prego per noi. Gloria della stirpe di Davide. Prego per noi. Splendore di grazia. Prego per noi. Arca dell'alleanza. Prego per noi. Porta del cielo. Prego per noi. Stella del mattino. Prego per noi. Salute degli inferni. Prego per noi. Rifugio dei percatori. Prego per noi. Consolatrice degli afflitti. Prego per noi. Aiuto dei cristiani. Prego per noi. Regina degli angeli. Prego per noi. Regina dei patriarchi. Prego per noi. Regina dei profeti. Prego per noi. Regina degli apostoli. Prego per noi. Regina dei martiri. Prego per noi. Regina dei confessori della fede. Prego per noi. Regina delle vergini. Prego per noi. Regina di tutti i santi. Prego per noi. Regina concepita senza peccato. Prego per noi. Regina assunta in cielo. Prego per noi. Regina del santo rosario. Prego per noi. Regina della pace. Prego per noi. Regina della famiglia. Prego per noi. Anello di Dio. Prego per noi. Santa Madre di Dio. Prego per noi. Saremo fatti degni nelle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Dio. Congedio a noi. Tuoi servi. Una continua salute di corpo e di spirito. E per l'intercessione. Gloriosa di Maria. Sempre vergine. Liberaci dai mali della vita presente. E donaci il gaudio. Dei beni eterni. Per Cristo. Nostro Signore. Amén. Amén. Fili del Espirito Santo. Amén. Viva Maria.